Ciao Sofia! Buongiorno! Noi dobbiamo spiegare a chi ci verrà a vedere al prossimo festival chi sei e perché ti abbiamo invitata. Grazie, mi è molto interessante per questo. Senti, tu vieni dall'Ucraina, è stato difficile arrivare qua? Sì, molto, perché abbiamo da quattro giorni stato in Ucraina per andare per Polonia, dopo siamo in Polonia da qualche giorno e andiamo un giorno e un'notte per l'Italia. Ma in Italia sei arrivata perché ti ha chiamato qualcuno, conoscevate delle persone? Sì, un'amica ha chiamato a me e dice che in Italia ci hanno tante cose per l'Ucraina e noi possiamo andare così e facciamo una bella storia. Senti, tu vieni da Kharkiv? Sì, è vero. È una città oramai distrutta? Sì, noi abbiamo una molto stressata situazione adesso perché la nostra città è già bambata tutti i giorni e da 80% non c'è adesso. E tu hai lasciato qualcuno, dei familiari, probabilmente degli amici dei tuoi compagni di classe? Sì, i miei amici stanno in Kharkiv e anche mia nonna perché lei non vuole andare in altri paesi. E i tuoi amici? Sì, anche loro, loro non vogliono perché qualcuno ha studiato in università, qualcuno fa qualcosa in Kharkiv, qualcuno ce l'ha lavoro e è un po' difficile per andare via quando tu ce l'hai qualcosa. Quindi, con questo praticamente, con Whatsapp, vi sentite, vi scrivete? Sì, Whatsapp, Instagram, questo è tutto il nostro evitare adesso. Senti, quando sei arrivata in Italia avrai la prima parola che hai imparato? Qual è stata? Questa è una molto interessante storia perché quando ho arrivato in Italia, noi siamo in famiglia italiana e qua ce l'hanno un cane e le prime mie parole stanno come giù, seduta, zampa. Hai imparato quindi a dare i comandi al cane? Sì. Senti, che differenza c'è tra Sofia quando viveva a Kharkiv e Sofia che vive adesso qui a Milano? C'è tante differenze, che Sofia che viveva in Ucraina può fare piani per tre anni, cinque anni, lei lo sa che vuole fare da domani, lei lo sa che vuole fare da qualche anni, però qua, adesso, Sofia che vive in Italia, pensa che è molto difficile per stare adesso e per capire che vuole fare tra quanti anni. Quindi tu non sai dove sarai fra dieci anni? No, però voglio stare molto brava persona, aiutare per altre persone perché ho capito quanto questo è importante, perché quando io ho arrivato in altri paesi con VR, per me ha aiutato molte persone, tantissime, e io voglio fare anche questo. Cioè vuoi ricambiare con l'aiuto che ti è stato dato qua in Italia? Sì, mi piace molto tutti gli italiani, tutti hanno aiutato a me, tutti vogliono fare qualcosa, tutti vogliono per studiare qualcosa con me, studiare mia lingua, e io voglio per fare qualcosa da tutti gli italiani, da tutte le persone in tutto il mondo. Complimenti. Senti, il nostro festival si intitola Right Now, diritti ora. Dovresti per favore guardare da quella parte e dire come si dice nella tua lingua. Sì, noi stiamo iniziando. Sì, noi stiamo iniziando. Sì, noi stiamo iniziando.